Un caloroso benvenuto a tutti. Sono Oliver ed oggi andiamo a parlare su una serie di fatti strani che stanno accadendo in Antartide. Lo scorso febbraio 2016 il Papa Francesco e il Patriarca Ortodosso Kirill si sono incontrati dopo oltre mille anni dall'ultima riunione fra i capi ortodossi e cattolici. Diverse fonti assicurano che il Papa ha consegnato a Kirill un antico manoscritto sull'arca di Gabriele. Una settimana dopo questa riunione il Patriarca Ortodosso Kirill ha fatto un viaggio in Antartide dove eseguì una serie di rituali strani davanti a questa arca di Gabriele. Il seguente mese di marzo anche Obama ha fatto un viaggio in questa parte del mondo e lo scorso ottobre Wikileaks ha pubblicato senza alcun motivo apparentemente 23 fotografie inedite dell'Antartide. Molte persone dicono di aver notato cose strane in quelle fotografie però il caso curioso è per quale spiegazione improvvisamente hanno rilasciato queste 23 immagini dell'Antartide senza alcun motivo. Alla fine di ottobre 24 nazioni hanno firmato un accordo internazionale per restringere ancora di più l'accesso alla pesca e alla ricerca indipendente in Antartide. Questo accordo ha una durata minima di 35 anni ed entrerà in vigore il dicembre dell'anno prossimo nel 2017. L'Antartide diventerà la più grande riserva marina del mondo. Una commissione internazionale lo scorso venerdì arrivò ad un accordo considerato storico dopo anni di negoziazione che sembravano proseguire a causa dell'opposizione russa. La decisione è stata presa dai rappresentanti di 24 paesi più l'Unione Europea fra una maratone di negoziazioni iniziate lo scorso 17 ottobre in Australia. L'anno in corso il presidente Barack Obama ha creato la più grande area protetta ma adesso ne abbiamo una ancora più grande. Quasi un milione di chilometri quadrati del mare antartico nel Mar Ross venerdì sono diventati una protezione universale. La nuova zona protetta si trova nel mare Ross, nell'Antartide. Tutta la pesca commerciale è vietata in quest'area e dei ricercatori indipendenti avranno delle limitazioni. Questa protezione inizierà nel dicembre del 2017 e continuerà per 35 anni. Il parco marino più grande del mondo proteggerà quasi un milione di chilometri quadrati per gli abitanti naturali dell'oceano antartico. Gli attivisti festeggiano questo evento storico che proibisce la pesca per proteggere la vita naturale. Abbiamo conseguito un vero accordo oggi. Abbiamo creato la più grande area protetta ed è un enorme passo avanti per la conservazione marina globale. È un momento fantastico. Non sapevamo quale poteva essere il risultato prima di arrivare qui ma abbiamo lavorato insieme con le varie nazioni come l'Australia e la Nuova Zelanda e gli altri paesi per stabilire l'area protetta del Mar Ross e siamo fortunati di essere arrivati a tagliare il traguardo e questo è un grande risultato. Questo patto globale richiede un accordo unanime inclusa l'approvazione della Russia e della Cina. Un mese dopo questo accordo restrittivo internazionale, in novembre, John Kerry, segretario di Stato degli Stati Uniti e membro di Skull & Bonds, la società segreta alla quale appartiene anche George Bush, ha fatto un viaggio strano in Antartide lo stesso giorno delle elezioni statunitensi. Anche i media principali hanno fatto notare la stranezza di questo viaggio in piena elezione elettorale statunitense e la cosa normale sarebbe stata che fosse rimasto nel suo proprio paese durante le elezioni. Pare che il motivo del viaggio di Kerry sia stato di osservare l'impatto del cambio climatico nella zona, tuttavia sappiamo che questo cambio climatico è una menzogna per caricarci ancora di più con le tasse sul diossido di carbonio poiché non si conosce il reale motivo di questo viaggio di Kerry. Come si vede c'è tutta una serie di viaggi di leaders mondiali molto strani in Antartide che coincidono con questo nuovo accordo internazionale che restringe tutta la ricerca indipendente della zona. Non sono successi solo fatti strani recentemente in Antartide, questa parte del mondo è sempre stata oggetto di numerose operazioni militari molto sospette. Sappiamo che i nazisti hanno fatto diverse spedizioni segrete e che gli Stati Uniti hanno portato a termine grandi operazioni militari in questa zona. La prima e la più importante fino alla data odierda è stata l'operazione High Jump nel 1946. Questa operazione è stata comandata dall'ammiraglio Byrd, un massone della loggia federale numero uno di Washington che ha ricevuto un finanziamento illimitato da parte dei banchieri principali. La cosa strana di questa missione è che avrebbe dovuto essere di otto mesi, ma senza alcun motivo Byrd annullò l'operazione dopo sei settimane per motivi sconosciuti. L'ammiraglio Byrd fece una serie di sorprendenti dichiarazioni che confermavano l'esistenza di un territorio immenso completamente inesplorato nell'Antartide. La cosa strana oggigiorno è che esiste un'area più grande degli Stati Uniti che non è mai stata vista da nessun essere umano e questa si trova oltre il polo, nell'altra parte del polo sud, mezza America. E questo è sorprendente, abbastanza strabiliante che esista un'area abbastanza grande da esplorare e che questo potrebbe essere un'avventura a esplorare questa parte in fondo. Spero di vedere questo? Ah, lo spero. Per quale motivo in quella parte sotto del mondo non è mai andato nessuno? Vi spiego una ragione per questo interesse. È una zona molto importante, ancora abbandonata nel mondo per la scienza. Questo è il motivo per cui tutti i gruppi scientifici mondiali sono veramente interessati. Succede che è un'area intoccabile, una risorsa naturale. Senza dubbio è molto curioso che l'ammiraglio Bird, che questo spazio in questa zona inesplorata nell'Antartide ci sia un grande interesse per tutti gli scienziati di tutto il mondo e che in questa zona si trovino inoltre molte risorse naturali. Dopo l'operazione High Jump gli Stati Uniti realizzarono diverse operazioni militari nella zona chiamata operazione Deep Freeze. Queste operazioni terminarono nel 1957 e, sarà stato un caso, nel 1958 crearono la NASA. L'anno successivo, nel 1959, molte nazioni firmarono il Trattato Antartico che limitava l'esplorazione e la ricerca della zona da parte della cittadinanza. La cosa curiosa di questo trattato è che lo firmarono sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica nel pieno della Guerra Fredda. È come dire che l'unica cosa su cui si trovarono d'accordo i due lati che si fronteggiavano fu di restringere l'accesso all'Antartide. Se andiamo a riassumere il nuovo trattato che restringe ancora di più l'accesso a queste terre ghiacciate, si vede che effettivamente c'è qualcosa nella zona che vogliono tenerci nascosto. Molte persone pensano che si tratti di basi extraterrestri, oltre ad un'immensa terra abitabile molto al di là del muro antartico, ma credo che esista qualcos'altro. Nel mio video 25 prove che la NASA è una menzogna, abbiamo visto che le fotografie dell'Antartide e dello spazio sono mere composizioni realizzate attraverso il computer. Nel video mostro come nella presunta fotografia della NASA le montagne superano la stessa atmosfera terrestre, cosa impossibile per il motivo che non esiste alcuna montagna che arrivi a queste altezze. Di fatto è che se su Google cerchiamo immagini della terra dallo spazio vediamo che sono tutte composizioni fatte col computer, non c'è mai nessuna immagine reale. L'Antartide in realtà non è un continente di ghiaccio dove dicono che si trova nella parte bassa del presunto globo terrestre, ma bensì è una grande circonferenza di ghiaccio esterno che circonda la terra e fa da recipiente per tutti gli oceani. In Antartide si trovano i grandi muri di ghiaccio che il capitano Cook aggirò nel 1773 navigando per oltre 96.000 km attorno a queste mura senza trovare mai una zona di terra accessibile. Altre spedizioni hanno confermato che hanno dovuto navigare enormi distanze per circunnavigare l'Antartide e queste mure di ghiaccio molto più grandi di quello che avrebbero dovuto navigare se l'Antartide si trovava nella parte bassa di una atmosferica. Nel mio video La cupola è il limite della Terra ho parlato dell'esistenza di una cupola o di una volta celeste che ricopre la Terra menzionata in Genesi 1.6, nei proverbi 8.27 ed in Giobbe 37.18. Questa cupola poggia i suoi limiti laterali sull'Antartide, molto al di là delle mura antartiche. Questo credo che sia quello che ha scoperto il governo statunitense nelle sue operazioni High Jump e Deep Freeze nell'Antartide, probabilmente anche i nazisti, e per questo hanno creato immediatamente e successivamente la NASA per cercare di nascondere che la Terra è un sistema chiuso con dei limiti esteriori laterali. Inoltre è per questo che continuano le restrizioni sull'accesso come abbiamo visto con questo nuovo accordo internazionale e forse è per questo che i leader mondiali fanno dei viaggi. È inoltre curioso che abbiano deciso di restringere l'accesso per la ricerca indipendente in Antartide proprio quando c'è un grande aumento nel numero di persone che stanno mettendo in dubbio il modello ufficiale della Terra sferica come ci hanno insegnato. L'Antartide è un luogo chiave perché possiamo vedere se c'è veramente un limite della Terra dove potremmo inoltre calcolare la distanza reale ed in definitiva potremmo comprovare se il modello della Terra che ci è stato insegnato attraverso il sistema di educazione e dei media è corretto o no. Però sembra che non vogliono che scopriamo la verità e per questo ci nascondono quello che c'è veramente in Antartide. Se non lo siete iscrivetevi al canale che continueremo a parlare di questo tema e come sempre grazie a tutti per essere stati qui. Al prossimo video!